Il supporto finanziario può offrire una certa elasticità nei pagamenti, indubbiamente dietro presentazione di fiduzioni, dietro delle garanzie reali. Il discorso finanziario viene anche valutato e preso in considerazione guardando sia il cliente, sia la committenza e sia l'opera che sta facendo. Abbiamo anche una struttura finanziaria nostra che è l'Edify, la quale interviene nel qual caso il fornitore invece del classico pagamento a 120 giorni, voglia un pagamento a 30 giorni o anche in contante, c'è questa finanziaria sempre del nostro gruppo che interviene e che può soddisfare certi bisogni del fornitore. Oggi le aziende vivono di due motivazioni, la voglia o il bisogno. Quando lei ha una tranquillità finanziaria, apre l'azienda tutte le mattine con una voglia, una voglia di produrre reddito, una voglia di lavorare, una voglia di fare. Se lei ha tensione finanziaria, lei apre l'azienda sperando di fare una fattura per scontarla in banca e tutto questo ti porta a non essere sereno. Un'azienda, secondo il mio punto di vista, dovrebbe essere finanziariamente autosufficiente per la gestione giornaliera. Poi un'azienda fa un investimento, apre nuove sedi, si ammoderna, si gestisce in modo diverso, fa delle scelte e allora la banca può intervenire su scelte che faccio, ma penso su investimenti che faccio, non nella gestione ordinaria. Non posso pensare che l'istituto di credito eroghi dei finanziamenti perché la mia azienda non guadagna soldi. È sbagliato, le banche sono soggetti privati, dunque il credit crunch esiste, ma proprio perché è difficile capire quando io devo concedere un credito. Cosa ne fa di questi soldi? Rimedia i suoi errori con i miei soldi o con i miei soldi produce reddito? E ricordatevi che i grossi buchi nelle banche sono stati fatti nel mondo dell'edilizia. Ad oggi l'e-commerce pesa meno dell'1%. È facilmente spiegabile. I prodotti così pesanti e così voluminosi come quelli che noi vendiamo hanno un'incidenza delle spese di spedizione molto elevata. Quindi il cliente professionale che ha il suo mezzo di trasporto preferisce venire fisicamente in negozio e prendersi la merce. I clienti privati se si trovano molto lontano da un punto vendita prima non avevano alternative. Ad oggi con l'e-commerce hanno un'alternativa. Diciamo che il cliente professionale sarebbe disposto a acquistare online così almeno loro dichiarano solo se noi fossimo in grado di consegnare quasi in tempo reale, quindi due ore, direttamente sul cantiere. Assolutamente la scelta è quella di un canale complementare. Almeno fino ad oggi sicuramente è stato così. Abbiamo definito un carrello minimo per poter acquistare online di 250 euro, proprio per invogliare i clienti che si trovano vicino a un negozio fisico a venire fisicamente in negozio, mentre i clienti che si trovano più distanti dal punto vendita a poter acquistare online anche perché non avevano alternative fino a prima. Diciamo che il tempo passa e l'evoluzione tecnologica procede e quindi anche noi a breve faremo dei test di acquisto online con ritiro in negozio. Quel tipo di vendita ovviamente è più una vendita simile che complementare, insomma, per intenderci. Gestiamo direttamente la logistica dell'e-commerce attraverso ogni singolo punto vendita. Non abbiamo un deposito centralizzato come normalmente avviene nelle altre insegne della grande distribuzione, ma ogni singolo punto vendita è un deposito. Quindi ci sono delle persone della logistica che oltre a preparare le consegne a domicilio e bonifici preparano anche gli ordini online. Noi abbiamo scelto di avere non un solo negozio online, ma tanti negozi quanti sono i punti vendita fisici. Quindi di fatto se voi andate su bricoman.it in questo momento trovate 16 negozi. Questo per poter mantenere la massima trasparenza sui prezzi di vendita. Quindi il cliente che va online innanzitutto trova il prezzo di vendita del negozio che sta guardando, che potrebbe essere diverso dal prezzo di vendita di un altro negozio. Quindi questo ha comportato sviluppare di fatto 16 negozi. Non sono esattamente delle fotocopie. Inoltre non solo i prezzi di vendita sono diversi, ma anche le gambe sono diverse. Tutte le scelte che abbiamo analizzato possibili, quindi che ne so, mettere un prezzo medio, mettere il prezzo massimo, mettere il prezzo minimo, avrebbero comportato comunque una perdita di margine fondamentalmente o dall'altro lato un rischio di sembrare cari. Quindi se metti il prezzo minimo perdi del margine perché anche in negozio sei costretto ad abbassare il prezzo. Se metti il prezzo massimo rischi di sembrare caro anche al tuo cliente a cui sei sempre sembrato il meno caro. Nei negozi fisici abbiamo circa un 35-40% di clienti professionali e un 60% di clienti privati. Però questo a livello di numeri, a livello di fatturato, è molto più importante la quota proveniente dai clienti professionali, proprio per una banale frequenza di acquisto. La frequenza media di acquisto di un professionista è anche due o tre volte a settimana. Quindi voglio dire è naturale che faccia più fatturato. Se parliamo invece di e-commerce non è così, nel senso che come accennavo prima il cliente professionale ad oggi non acquista online. Ci hanno detto noi compreremo online solo ed esclusivamente se voi poteste garantirci la consegna quasi immediata, due ore, quattro ore sul cantiere. Quindi di fatto abbiamo due clienti su internet. Il cliente privato e la piccola media azienda. Quindi può essere l'estetista, può essere il tabaccaio, può essere l'ufficio, può essere il piccolo capannone che comprano per la loro piccola azienda, ma non il cliente primario di Bricoman, cioè l'installatore, l'elettricista, l'idraulico, il muratore.